A breve verrà bandito il concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. È il momento di cominciare la preparazione. Sia nella prova scritta che nella prova orale del concorso, il candidato dovrà dimostrare la conoscenza non soltanto dei contenuti specifici relativi ai campi di esperienza e alle singole discipline ma anche e soprattutto diremo la padronanza di temi come la progettazione didattica, le metodologie di insegnamento, i principi della psicologia e dello sviluppo, la relazione educativa, gli strumenti e i metodi per una didattica individualizzata e personalizzata in chiave inclusiva, l'uso delle nuove tecnologie nonché la conoscenza della normativa scolastica di riferimento. Non basterà quindi dimostrare di essere preparati nella propria disciplina ma occorrerà soprattutto evidenziare di saper mettere gli studenti nelle migliori condizioni per poter fruire dei contenuti e della loro ricchezza. Seguiteci sul nostro catalogo corsi.tecnicadellascuola.it Buon lavoro a tutti!